Allora ragazzi, siamo pronti? Sì! Dai, che ce la facciamo! Dai, ora sento che ricideranno benissimo, visto che li ho motivati. Dai su, posizionatevi, via! Che imbarazzo con quelle rode! Sì, ma che faccia fatto quando gli mi ha detto che cercava un re d'Israele e non lui? Su, siete seri, dobbiamo ricalcolare la posizione in cui si trova questo re. Siamo già in ritardo. E mica è colpa mia, se il re d'Israele è dove si poteva trovare se non a Gerusalemme? Nessuno ti sta accusando di nulla. E poi avevano detto che poteva essere soltanto nei palazzi del potere o nella capitale. Ma dove abbiamo sbagliato? Sentimi, chi orre, ma cosa dobbiamo fare dopo che abbiamo trovato il re d'Israele? Dobbiamo tornare da Erode e riferirgli che abbiamo trovato l'uomo? A me quel uomo non mi piace molto. No, non piace neanche a me. E non mi fido. Una volta che avremo trovato il re e gli avremo dato i doni, ce ne torneremo a casa. Dai su, sbrighiamoci. La stella ci precede e ci stiamo già tardando. Bravi ragazzi, siete stati bravissimi. Ma questi attori molte volte mi sorprendono, vanno aiutati, però alla fine danno sempre il meglio di loro. Mamma mia, devo contattare la Sarta, gli abiti non sono arrivati.